Buongiorno signora, come va? Ben alzata. Quanto pesava ieri? Io lo so a memoria, 67 chili e 50. Quanta è calata? Abbastanza, avanti un altro. No, no, scusate, ma la signora è ingrassata anche le tre. Come ingrassata? La bilancia che rotta, che la signora aumenta. No. Eh sì, bisogna lubrificarla. Sicuramente guasta. Posso prendere la parola? Zitto tu, dici solo stupidaggis. E io la prendo lo stesso, perché voglio denunciare un fatto molto grave. Non è la bilancia che guasta, è lei. La signora si è concessa carnalmente al dottor Baracchi per una sleppa di pane, burro e pasta d'acciughe. Io ho vissi io stanotte. Che efficienza. Mica sarà vero. Eh no, eh. Io per stanotte ho un alibi di ferro. Tu sai dov'ero. Stia zitto, stia zitto almeno. Te le sei approfittato, zuzzo. Perché tu al mio posto cosa avresti fatto? Io sono un medico serio, non un puttaniere come te. Non mi far far figura davanti a tutti. Io ti spacco la faccia. Ho la pappa sul fuoco che brucia, lasciami andare. Dopo facciamo i conti infame.